Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi come dovete fare il titolo ce lo giocheremo a Holy Up capitolo 2 Io Holy Up capitolo 2 non l'ho mai portato Ma semplicemente perchè è in poche parole un Holy Up E Holy Up non è una bella mappa rispetto a non lo so gli uno vivono Però so parecchi trick tipo questo trick iniziale lo so abbastanza bene Poi qua fino a non lo so vabbè è normale fino a qui Ehm poi cioè credo sia più easy del dell'altro Holy Up che ho provato Ehm per chi non ha visto i video io ho portato a parte si è buggato Ho portato Holy Up capitolo 1 e Holy Up di Gigi uno youtuber famoso Ehm che praticamente ehm l'ho portata ha fatto gli Holy Up quello capitolo 1 ha fatto più video mi sembra uno o due forse E' meglio quanto precisamente E se ne ho fatto solo un video ehm ne sono molto fiero Perchè è molto Sei buggato sott'acqua? Ma è buggatissima sta mappa ora L'ultima volta della premata non era buggatissima Comunque Sto fatto solo un video ne so ne vado fiero di Holy Up capitolo 1 perchè non è una buona idea Comunque Continua Continuiamo Ehm Ditemi nel capitolo 2 dove siete arrivati voi Il vostro record Perchè si sta sempre buggando Eccomi proviamo a fare sto trick No vabbè arriviamo semplicemente qui perchè non voglio rischiarmela Allora ehm andiamo qua Poi qua ci sarebbe un trick Qui dopo sta ruota Che c'è una gomma lì in mezzo Però preferisco fare la strada normale perchè ho paura di Di andare malissimo perchè E ora l'ho provata un paio di volte E non ci sono veramente mai riuscito Forse una volta ma Poi qua andiamo sopra il tetto Quindi andiamo ma Per cavolo Non si è drappato Ecco vai Così E ci ho provato Ci ho provato Proviamo a fare sto trick Proviamo Dovrebbe essere No no Troppa paura Non è molto facile Quindi non voglio perchè Già Sono già sudato Perchè ho già registrato altri video A parte questo E quindi Sono un po' Mi vai Sono un po' Stanco Poi sono andata a scuola Poco fa Cioè Sono uscito da scuola da poco E quindi non riesco proprio a muovermi Cavolo Eccomi Qua Stavo rischiando tantissimo Qua non salvo Qui sopra sto Cosmo Faccio la strada normale Perchè Non l'ho mai provata E non avevo proprio intenzione Di provarla Allora Poi andiamo qua La gomma Non la prendo nemmeno Faccio Subito La prima volta che ho fatto Questo alliap E sono andato Avanti E poi sono caduto Perchè non Trovavo la strada Nella paglia Qui E non capivo bene A cosa serviva Poi qui basta Le tocco l'acqua E Pramente Sono morto Perchè Con qualche logica Non potremmo farla Che cadevo di sotto Però Vabbè Qui E qui Poi qua Invece di farla Tutto normale Andate sempre qua Poi Nel Dopo Perchè Non mi piaceva andare Qua Invece di andare Nel faro Andate in giù E poi andate In su Così Almeno saltate Proprio tutto il faro Io il faro Non l'ho mai fatto Ma proprio letteralmente Mai Perchè Quando ho iniziato a fare Sto Only Up Avevo visto Parecchi video Di Only Up Capitolo 2 Che comunque Vabbè Parecchi Un bel po' di video E Praticamente Avevo Imparato un po' Tanti trick E roba del genere Quindi Però questo qui Non lo so fare E quindi Non lo faccio Continuo Per Di qua Poi vado qua E qua Poi Qua Qua E qua Poi qua 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 Una volta Sono andato Avanti E sono caduto Quindi Vado di qua Non male non ci si deve Niente Perché se no Sbatteva la testa Allora Poi si va Qui è Rit Easy No No Non puoi pochi atti così Per buggerarti Da dove passo Da dove passo per Non morire Dove 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 Vado Ecco Di Di qua Bene E di qua Poi Continuiamo Su Sti tubi Io sti tubi Non ho mai usato Farli Nuovo livello Perché Cioè Quando ci arrivi Li devi far per forza Ma Non li ho mai Oltrepassati Perché sono sempre caduto Cioè Dovrebbe essere Il mio record Questo Allora Ehm No eh Vedi Vedi Avete visto Che si è baggato Cavolo Avete visto Che si è baggato Tutta sta strada Siamo di nuovo Qui Cavolo Ecco Poi Andiamo qua 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 Io l'odio La parte dei tubi Porca vacca Ma che problemi C'hanno Sti tubi Cioè Perché Fanno così L'odio Sta parte Non ho mai Ripassato Cavolo Allora Se vi è piaciuto Questo video Dove Arrivo ai Quasi 500 metri Che poi magari Faremo Continuo E ci giocherò Ancora Iscrivetevi Lasciate like Attivate la lampanellina Ciao E ci giocherò 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 Grazie a tutti.